Noi vogliamo che la gente ha scelto di ricostruire lì, sappiamo che si può ricostruire, che ci ha detto il piano e vogliamo ricostruire in parte. L'assista è il Natale, occasione propizia per speranze e buoni propositi. Sette anni sono trascorsi dal sisma del centro Italia, sette anni che il sindaco di Arquata del Tronto, Michele Franchi, spera ora di potersi lasciare alle spalle. Noi sappiamo benissimo che nelle frazioni non perimetrate, quelle che hanno avuto meno danni, come la frazione di Spelonga, Lamia, Colle, Faete, Trisungo, Borgo, in parte Cammartina, abbiamo più interventi già decretati e nelle altre invece la ricostruzione va in maniera un po' più lenta. Il 2024 segnerà l'avvio della ricostruzione anche nelle aree perimetrate, quelle cioè maggiormente danneggiate dal sisma. È il caso delle frazioni di Pretare e Capodacqua, per le quali la struttura commissariale ha stanziato oltre 10 milioni di euro. Grazie alla convenzione siglata con l'USR, la CIP interverrà sulla rete dei sottoservizi, opera questa fondamentale e propedeutica. Io credo che a primavera vedremo i primi candieri a Tufo, me lo faccio con tutto il cuore, poi c'è la questione di Arquata Capoluogo. Il primo passaggio sarà la messa in sicurezza della strada provinciale e di quella di accesso al paese. Saranno poi realizzati terrazzamenti. Su questo complesso sistema verranno costruite in sicurezza le case. Ci hanno detto che adesso presenteranno questo PFT, poi che verrà messo a gara per progettazione e tutto. Loro sono convinti che l'anno prossimo, inizio anno, massimo primavera, si partano i lavori di Arquata. Dobbiamo sempre più allontanare lo spettro delle case ricostruite ma vuote, aveva detto a inizio anno il commissario Guido Castelli. La spinta arriva dalle nuove opere che serviranno a ricucire il tessuto socio-economico arquatano. Qui partirà il centro dei due parchi, che diciamo che era un centro di azione ambientale che è utilizzato anche come una struttura ricettiva, potrebbe essere utilizzato, 54 posti letto. L'altro giorno hanno firmato il contratto perché è un apparto integrato. E poi ci sarà una pietra del palazzetto dello sport, che era quello fatto dalla roce rossa, dall'associazione Io ci sono di La Urbova e da piccola associazione del territorio. Noi siamo convinti che questi lavori partiranno a anno nuovo, cioè sono già stati appaltati. Con le risorse del PNRR sarà completata la riqualificazione del ponte di Trisungo e dei percorsi fluviali, l'ex poligono di Tiro, dal quale partiranno percorsi naturalistici ciclopedonali e un nuovo parcheggio a servizio di cimitero e comune. Noi abbiamo circa 2.000 edifici da ricostruire, il 1.900, quindi ci vogliono gli uffici che siano funzionanti e soprattutto dove c'è il personale. Appello prontamente accolto dal commissario Castelli, che pochi giorni fa ha annunciato l'inserimento nella legge di bilancio di un ulteriore miliardo e mezzo di euro, risorse destinate in parte proprio alla stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione. Noi Arquatani siamo bravi ad accoglierci, a stare insieme, a metterci alle spalle tutto quello che c'è stato. Però certo, io mi auguro che sia un Natale di speranza e che tante persone possano passare il prossimo Natale nell'abitazione, perché dopo sette anni è difficile.